Ciao ragazzi mi faccio vedere una cosa su mio canale, è una Aragofo e ve lo faccio vedere fra poco quando siamo arrivati a 10 secondi. Ecco il mio Aragofo, ho già aperto la confezione e ho già tolto la pastichina lì e eccolo qua, è qua dentro. E poi devo attaccarlo su un compressore per spruzzare il colore, guardendolo qui devo mettere il colore, da qui va a spruzzare e qui ci servirà un'altra cosa per aggiuntirlo a quello e anche questo coso qui dal lato e farà forse se ci riesco nel prossimo video. Io ho appoggiato il mio telefono e la mia telecamera per vedere cosa c'è dentro alla scatola della Aragofo, come vedete nel video. Sì come vedete ho montato la Aragofo, ve lo farò vedere, come avevo già detto ho parlato all'inizio del video, l'ho detto ora, questa fine parte del video. Ho montato questa rondella, prima di montare questa rondella ho messo questo spinotto qui dentro la rondella e dopo ho avvitato la rondella qui, ho avvitato, avvitato per essere più stretto. Qui dove si spruzza il colore e qua dentro ci metti il colore, togli questo tapino, eccolo, tolto il tapino, si mette qua dentro il colore e passa qua dentro. E qui si schiaccia il tasto, si può mettere la misura indietro o così avanti e si schiaccia quando si è attaccato a un compressore. Questo il tapino ce lo rimettiamo. Questa è una pompetta, si servirà per qualcosa, guarderò bene l'istruzione e come si funziona, le faccio vedere nel prossimo video cosa faccio. Questa è una chiavina che ho abbinato insieme a questo, quella là è l'istruzione, siamo sul letto a registrare questo video. Ve la faccio vedere nel prossimo video quando ho acquistato i colori per la Aragofo. Ok ragazzi?